Buonasera, buonasera a tutti, alle ragazze e ragazzi presenti qui con noi, alla nostra ospite che tra poco presenteremo e al pubblico che ci segue da casa e benvenuti alla nona puntata della seconda stagione di Dieci Storie. Dieci Storie è un format inserito nel più ampio progetto Abbi Cura di Lui, Volti al Futuro 2022, promosso dalla Caritas di Ocesana di Alesterralba con i fondi 8x1000. Nona puntata, come già detto, in che abbiamo il piacere di dare il benvenuto e vi chiedo di fare un fortissimo applauso per Maria Giovanna Cherchi. Grazie. Ciao Maria Giovanna, come va? Benvenuta di nuovo. Alberto, grazie, sono davvero molto molto felice, c'è una bella atmosfera qui, si respira davvero un'aria di casa e poi siamo sotto Natale, non potevi farmi un regalo più bello questa sera. Hai visto? Ti ho fatto un regalone, io ti presento il tuo regalo perché loro arrivano da San Gavino, sono del liceo delle scienze umane, Marconi Lussu. Fatevi voi un applauso adesso. Tra poco li sentiremo, loro si sono preparati per questa puntata. Ai ai, spero di essere all'altezza di tutte queste domande. Io ne sono sicurissimo, guarda. Voglio presentarti anche un altro ospite che è con noi, lui ci sta accompagnando in questa nostra stagione, è un quadro chiamato Fuga dalla critica, è un giovane come loro che si sta affacciando in questo mondo, lo guarda con stupore un po' come loro adesso in questi ultimi anni del liceo che si stanno affacciando al mondo degli adulti. Non so voi, ma io mi sentivo un po' osservata. Perché mette un po' di ansia, però ormai è diventato un nostro caro amico. Allora Maria Giovanna, iniziamo questa puntata, riassumere il tuo curriculum è un po' un lavoro arduo, però ci proviamo. Non dirlo tutto, perché sembrano troppo vecchi, adesso qua loro sono troppo giovani e quindi mi faresti sfigurare. No, non mi fate allora, abbiamo stretto, abbiamo stretto. Noi tutti ti conosciamo, la Sardegna conosce la tua voce attraverso i tuoi album, le piazze, ci hai fatto emozionare, ci fai divertire, ci hai fatto ballare, ma soprattutto ci hai fatto conoscere un po' di più la nostra terra. Tu hai fatto tanti anni di gavetta, nel 1995 hai partecipato al concorso canoro più importante della Sardegna, con il brano Roccas, hai conseguito il primo premio. Da quel momento è un po' iniziata la tua carriera, che ti ha visto produrre numerosi album, numerosi singoli e molto famosi, Roccas il primo di tutti. Dal 98 sono ben 10 gli album, giusto? Ai ai, tu sei più preparato di me. L'ultimo in ordine di tempo è Sirena di quest'anno, del 2022. Sì, questo lo so, è perché è l'ultimo, quello è sicuro. Perfetto. Allora, poi in questi 28 anni hai fatto tanti concerti a livello nazionale, internazionale, tante collaborazioni in tutta Italia, importanti riconoscimenti, perché nel gennaio del 2016 hai vinto anche il concorso indetto dalla web tv Sardegna Live per eleggere il sardo dell'anno 2015, quindi complimenti. A febbraio 2017 si è stata insegnata dal premio Alziator per la musica e nello stesso anno, settembre 2017, hai vinto anche il prestigioso premio Maria Carta, proprio dato dalla Fondazione Maria Carta nel teatro di Gorizia. Sì. Insomma, i presupposti per una super puntata ci sono e dire allora di avviarci. Come sai, in Dieci Storie c'è un momento importante, quello centrale, delle tre foto, dei tre momenti delle foto, perché oggi ne abbiamo qualcuna in più. Attraverso queste foto noi facciamo un viaggio quasi temporale nella vita dell'ospite, quindi iniziamo proprio dagli inizi, da una foto di te bambina, che possiamo vedere qua con noi. Tu all'età di sette anni stavi già cantando, perché ti sei presentata a un concorso, anche in questo caso con una canzone in sardo? No, non era in sardo in questa occasione. Sì, vedete, proprio questa fotografia è stata scattata a Bolottana quando avevo sei anni e lì cantai una canzone di Raffaella Carrà, che allora era famosissima, esattamente Ballo Ballo, perché mio padre cantava, ha sempre cantato, però lui era un rocchettaro, un amante della musica rock, mio padre aveva i capelli lunghi, era sempre stato un amante della musica e quindi da quando ero piccolissima mi sedevo sulle sue ginocchia e mi diceva in sardo, da, canta! E quindi allora ero innamorata di Raffaella Carrà e di Pronto Raffaella, forse era il programma e allora in quell'occasione avevano preparato a Bolotta, nel mio paese, dove sono nate, dove vivo ancora oggi, un Festival Canoro e quindi questa fu proprio la prima esibizione e fu davvero una grande, grande emozione, quindi Ballo Ballo di Raffaella Carrà. E tu hai proprio iniziato da piccolissima, lo possiamo vedere in questa foto, possiamo dire che sei sempre stata una cantante, però raccontaci un po' come il tuo percorso è andato avanti e soprattutto quando è stato il momento in cui ti sei resa conto che questa tua grande passione poteva diventare il tuo lavoro, anche perché magari molti di loro, molti dei nostri ragazzi, giovani e adolescenti, sognano di diventare dei cantanti, quindi c'è ancora spazio nel mondo del lavoro per l'arte? C'è spazio? Assolutamente sì, credo proprio che se tu hai una così grande passione, sono sempre convinta del fatto che conti molto il talento, io ho ereditato, come dicevo, la voce da mio padre, la stessa identica voce, solo che lui è maschio e io sono femmina e quindi da quel momento poi non mi sono più fermata, tutte le possibilità che ci sono state le ho un po' prese al volo, tutti i concorsi, quelli importanti, meno importanti, quelli paesani, quelli delle feste e poi ho cominciato a cantare, a fare tanta tanta gavetta nei matrimoni con mio padre, cantavo, lui suonava la tastiera e io cantavo accanto a lui, nel frattempo ho comunque continuato sempre a studiare e poi quando avevo 13, 14 anni, diciamo così, ho capito, come dicevi tu, che forse quella passione poteva diventare un lavoro perché sono arrivate, mentre prima ero io a propormi, cominciavano ad arrivare le prime richieste, quindi magari sei libera per cantare in questa festa, prima erano le feste private, poi quelle dei paesi, poi alla fine sono diventati appuntamenti più importanti e così piano piano, però devo dire veramente che nel mio caso quello che ha fatto la differenza è stato proprio il fatto di fare tante, tante serate, ho fatto cettinaia di matrimoni con mio padre, rientravo alle 4 del mattino e alle 6 prendevo il treno a 13 anni per andare a Nuor a studiare alle magistrali. Ecco, a qualche ora arrivano dalle vecchie magistrali, adesso le scienze umane, prima erano proprio le magistrali, quindi ragazzi giocate ancora più in casa. In questa fase quanto è stata importante alla tua famiglia? Fondamentale, lo dico sempre, io ancora oggi sono viziatissima, vivo ancora a casa mia, per fortuna quando rientro è tutto pronto, è tutto fatto perché non saprei come davvero come avrei fatto se non avessi avuto l'appoggio, l'aiuto di tutta la mia famiglia, cominciare da mio padre che ancora oggi mi accompagna a tutte le serate, mio padre ritira il leggio dal palcoscenico ancora oggi che se fosse stato permesso sarebbe rimasto lì sul palco, quindi un grande aiuto ancora oggi in questi giorni, fondamentale. Quindi, insomma, si vede che anche dagli occhi, da come me lo stai dicendo, che è una figura molto importante, che sono delle figure molto importanti. Prima di entrare un po' nel vivo della tua carriera, lo facciamo con le altre due foto, voglio parlare di una parte importante sia del tuo precorso ma anche della tua vita. Tu nel 2007 sei stata scelta tra tutti gli artisti sardi per interpretare davanti a Papa Benedetto XVI nella sua visita pastorale il Deuti Salve Maria. E lo stesso, nel 2013, durante la visita pastorale di Papa Francesco in Sardegna, sei stata scelta per accogliere il Pontefice con la tua voce e con i canti più belli della nostra tradizione religiosa. Partiamo da questo, da questi due episodi, per raccontarci un po' quanto sono stati importanti, che emozione è stata per te, ma anche che ruolo, se di ruolo si può parlare, ma quanto è importante la fede nella tua vita, anche perché tu sei un insegnante di religione. Sì, esatto. Io sono stata scelta, come dici tu, sì, indubbiamente mi piace questa parola, penso che sia più stato proprio un privilegio dovuto al fatto che io non so mai dire se sono un insegnante di religione per passione e una cantante per mestiere, per lavoro o viceversa, perché sono due cose che si incastrano perfettamente da sempre. Quando ero alle superiori avevo un professore di filosofia davvero molto in gamba che certamente aveva avuto una storia da cattolico, aveva anche studiato da sacerdote, poi però dopo aveva cambiato strada e lui mi ha un po' instradato in questo percorso di conoscenza che mi aveva affascinato da sempre. Allora quando ho finito alle superiori ho deciso di iscrivermi all'istituto di scienze religiose, poi ho continuato gli studi fino a quando poi appunto ho preso la laurea magistrale, ho iniziato a insegnare religione da quando ero giovanissima, quindi queste cose sono venute un po' perché questo cammino è andato sempre, ha camminato sempre in modo parallelo. Sono una cattolica praticante, in tante occasioni ho avuto il piacere di conoscere tanti vescovi, tanti sacerdoti per tutta una serie di motivo e allora sono quelle cose che capitano per caso quando dico ma sai che deve venire, ricordo ancora il giorno eravamo col vescovo di Tempio in una cena, ma sai Maria Giovanna che deve venire il Papa? Davvero eccellenza, ma c'è la possibilità di cantare, perché vuoi cantare? Sì, certo che c'è, è stato, è così in modo molto familiare. Poi non si sono dimenticati di questa promessa che mi avevano fatto e quando è arrivato Benedetto XVI abbiamo intonato tutta la Sardegna in quell'occasione, ha intonato in piazza Cagliari la nostra Deusi Salve Maria che tra l'altro il Papa anche nell'Omelia aveva citato con proprio le parole del testo di Deusi Salve Maria. Quindi è stato un modo bellissimo per concludere quella giornata di preghiera che era di tutta la Sardegna, una festa condivisa bellissima. Per quanto riguarda invece l'appuntamento con Papa Francesco fu un pochino più intimo, anche lì nato per caso, il Papa aveva un momento di, diciamo così, di pausa con i seminaristi nel seminario maggiore di Cagliari, quindi Maria Giovanna possiamo fare un brano durante il pranzo? Ho detto sì, è come? Così a cappella. È arrivata la torta, io sono uscita un po' come quelle sorprese, avete visto? La torta si apre. È arrivata la torta e io sono venuta subito dopo, il Papa ha fatto fare silenzio e abbiamo intonato il Padre Nostro in sardo ed era come, come posso dire, cantare per nonno, per… è stato un momento bellissimo, se posso dire anche più bello di quello vissuto in piazza perché era davvero molto intimo. Molto intimo. Per te è stato più emozionante? Pensiamo alla prima volta che hai fatto una piazza in Sardegna, quindi l'emozione della prima volta, oppure davvero cantare lì di fronte a due figure così importanti? Allora, il giorno che abbiamo cantato per Benedetto XVI davvero è stata una grande festa di popolo, ricordo che sono arrivata sotto il palco, io mi credevo a Bolotana e parcheggiai la macchina proprio davanti al palco così, sai, tanto era come facevo sempre alle feste di paese. Sono salita per fare le prove su questo palcoscenico, tipo era mezzanotte, dopo due minuti avevano messo la mia macchina sul carattrezzi per portarla via e quindi insomma era così per me, era un momento come tutti gli altri, insomma cantare una canzone su un palcoscenico. Invece poi la sera quando il Papa è sceso dalla strada ed è arrivato sul palco e mi hanno chiesto di cantare, credo di non aver mai sudato così tanto in vita mia, di non essermi mai emozionata così tanto, è stato davvero uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Lo possiamo immaginare, non è appunto difficile da immaginare. Andiamo avanti con il nostro viaggio all'interno della tua storia. Qua vedremo tre foto di seguito, abbiamo la copertina del tuo ultimo album appunto Sirena, poi il legame con la nostra terra e anche le piazze un po' che tu vivi durante tutto l'anno. Diciamo che con questo mix di foto possiamo provare a riassumere un po' la tua carriera e il tuo modo di fare musica. Ti volevo chiedere un po', raccontaci il perché della musica etnica, perché hai scelto di cantare appunto di essere una cantante etnica, quali sono stati anche i momenti più importanti ed emozionanti della tua carriera da questo punto di vista? Prima abbiamo nominato i primi appuntamenti di festa con mio padre dove chiaramente cantavo di tutto, non c'era una... però posso dire veramente che la prima volta che ho cantato in televisione, avevo otto anni, avevo il vestito della prima comunione, lo ricordo perfettamente, cantai in sardo perché era davvero e sempre, da sempre stata la mia passione più grande. Il primo disco che mio padre mi regalò fu un disco di Piero Marras e da lì poi questo cantare in sardo davvero mi ha accompagnato tutta la vita. Pensavo sempre che se un giorno avessi potuto cantare in una mia canzone, l'avrei voluta cantare in sardo, così è stato, non so se davvero sono stata una fortunata, ma ho potuto veramente realizzare un sogno. E poi questo amore per la Sardegna è davvero viscerale. Io mi chiedo sempre come fanno le persone che sono nate qui ad abbandonare questa terra. Per me sarebbe impossibile, io non riuscirei mai ad andare a vivere fuori dai confini della mia Sardegna. Io sento proprio quella nostalgia già due giorni, tre giorni che sono fuori. Vado ovunque, l'importante è avere il biglietto per tornare indietro. La Sardegna è certamente tiranna, perché quando tu ci abiti e l'ami così davvero ti prende totalmente, condiziona tutta la tua esistenza. Questo disco che abbiamo detto è intitolato sirena perché la Sardegna è, secondo me, la Sardegna è donna e ha una voce ammaliante, come quella di una sirena. Se tu ci sei nato, non puoi dimenticarla, è come se fosse scritta nel tuo DNA. È così come se tu l'hai incontrata anche solo una volta in visita, il desiderio sarà sempre quello di ritrovarla, almeno una volta. E allora questo sentimento è in tutte le mie canzoni, in tutte le cose che faccio, in tutti gli appuntamenti che ho il piacere di vivere, come quelli che avete visto. Questo è l'ultimo, proprio l'ultimo. Domenica scorsa ero a Capoterra, questa è la piazza di Capoterra in festa. Ed è così, è un abbraccio continuo, della quale sono immeritatamente protagonista tutte le sere. Ed è davvero un grande privilegio poter, in qualche modo, cantarla, cioè farla più bella con la musica, questa terra. Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché tu, è vero, hai un amore viscerale per la nostra terra. Però non sono mancate le esperienze, sia a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Anche un tour in Australia, se non sbaglio, nel 2007, hai portato avanti. Tra l'altro tu hai portato la Sardegna anche nei circoli di Sardi, per esempio, che si trovano in Italia. Molti pensano che sia limitante cantare solo in sardo, però in realtà non lo è. No, non lo è perché penso, intanto la musica è un linguaggio senza confini, non ha bisogno di essere per forza compresa. L'emozione, la forza è quella che arriva anche oltre il significato e la comprensione delle parole. Allora io ho avuto la possibilità di esibirmi davanti a tante platee dove nessuno era sardo, però arrivava comunque un'emozione. Questa è la forza della musica e anche della nostra lingua che ha proprio quella capacità di entrare in modo proprio fortissimo nell'anima delle persone. E allora quando tu vai nei circoli Sardi, è vero che vengono tanti Sardi a trovarti, ma non solo. Ci sono tante persone che non sono sarde e che frequentano i circoli Sardi e condividono l'amore per la nostra Sardegna pur non essendoci nati. E così anche quando tu vai anche in altri contesti, come per esempio, mi capita insomma di andare tante volte nei centri di cultura in Italia, anche da poco sono stata ad Amsterdam e lì forse hanno una capacità al di fuori dei nostri confini di capire che la musica davvero è bella tutta e che la Sardegna ha un patrimonio enorme di tradizioni che è amato da tutti, non solo dai Sardi. Tu lavori tanto anche dietro le quinte, cioè i cantanti lavorano tanto anche dietro le quinte, perché noi vediamo, noi ascoltiamo l'album, noi vediamo il concerto, però che tipo di lavoro c'è nella preparazione sia del live ma anche della preparazione dell'album, della produzione appunto? Allora io lavoro con la stessa agenzia da più di vent'anni, ho avuto questa fortuna di avere dei collaboratori che mi hanno sempre assistito da quando ero giovanissima e dei musicisti straordinari che sono la mia forza, dei tecnici che lavorano con me sul palco molto prima di me, arrivano ore prima di me e mi danno la possibilità di arrivare con la serenità più totale, con la valigetta e con il microfono, sapendo di trovare un pezzo di casa, un pezzo di famiglia, tutti si cammina verso lo stesso obiettivo ed è davvero una grande fortuna questa, è la squadra quella che fa la differenza e questo disco che avete ascoltato è nato in pandemia, è stato un disco per il quale abbiamo lavorato tre anni e tutti prendevano il telefono e si parlava di quali strumenti, di quali arrangiamenti, di quali momenti scegliere uno piuttosto che un altro e così è nato perché tutti l'abbiamo voluto con forza anche da lontano ed è penso così che si possa in qualche modo raggiungere un certo tipo di traguardi solo quando tu hai tante persone che ti sostengono, che ti vogliono bene, che lavorano per te. E' questo messaggio chiarissimo di come l'arte può solo unire in questo e fare gruppo. Bene, tu hai parlato di gruppo, di squadra, qua abbiamo davanti due gruppi, anzi un gruppo unico, loro hanno lavorato in settimana, hanno studiato Maria Giovanna Kerchi tutti i giorni per preparare delle domande per metterti in difficoltà e l'hanno fatto benissimo. Loro oggi te ne presenteranno sei ma ne hanno preparato molte di più che noi ti faremo avere e tu ci risponderai e ci dirai quanto ti hanno messo in difficoltà effettivamente. Però adesso lascio lo spazio a loro e io direi di accogliere con un applauso subito il nostro Nicolò. Buonasera Maria Giovanna. Ciao Nicolò, grazie. A lei. Siamo due classi del liceo delle scienze umane di San Gavino, Marconi Lussu. Siamo felicissimi tutti quanti di essere qua. Iniziamo subito con la prima domanda che abbiamo preparato. Cos'è per la musica? Beh è una fortissima fonte di ispirazione, una compagna di vita che davvero come avete sentito mi ha accompagnato dalla prima infanzia che ancora oggi mi dà gioie grandissime ed è anche un grande impegno, una grande fatica quotidiana perché comunque se tu l'ami così tanto in qualche modo devi lavorare perché davvero possa dare i frutti. Allora penso, faccio solo un esempio. Quando ero giovanissima come voi e avevo 18 anni io non ho mai, non sono mai andata ad un capodanno da sola con i miei amici perché ho sempre lavorato. Andavo con mio padre, facevamo la serata, mentre gli altri facevano il capodanno io cantavo e stavo lavorando. Abbiamo fatto per tanti e tanti tanti anni questa cosa, però oggi come oggi davvero mi ha dato quelle soddisfazioni che quelle che allora mi sembravano delle rinunce non riuscivo proprio a capire perfettamente. Invece vedi la musica è una compagna di viaggi che però in qualche modo ti dà tanto e ha bisogno però di insomma di essere perseguite, di essere in qualche modo onorata. Ecco, questa è la parola giusta, onorata. Quasi un sacrificio davvero fatto però con amore che poi porta i suoi frutti. Alessio ci vuole fare un'altra domanda. Eccolo qua. Ciao Giovanna, volevo chiederti, hai mai avuto dei momenti di difficoltà? E se sì, come li hai superati? Alessio, grazie. Ma no, devo dire di no, proprio momenti di difficoltà non sarebbe giusto definirli così. Diciamo che faccio davvero, ho fatto in passato e faccio ancora oggi tante cose tutte insieme. Io sono un'insegnante di scuola primaria, lavoro tutti i giorni a scuola. Io vado prima a scuola come ho fatto stamattina per esempio. Sono uscita da scuola, sono venuta qui e così domani andrò a scuola, di sera andrò a Valle d'Oria. L'indomani mattina dopo la serata andrò nuovamente a scuola, di sabato o di sera andrò a fare il concerto. Ecco, torniamo a quella storia dei sacrifici e molte volte dico, signore mio non ce la faccio più, aiutami, non ce la faccio, dai non ce la faccio, non mi alzo, non mi alzo, non mi alzo. E invece poi vado perché comunque devo portare a termine degli impegni che mi sono presa. Solo forse la mia difficoltà è a volte la stanchezza fisica, non mentale, proprio fisica. Ora sono vecchia, non ce la faccio più. Prima avevo più forze, mi sentivo più massiccia. Adesso comincio a sentire un po' la fatica fisica, però dai ce la posso fare. Anche un po' guerrieri nella musica bisogna essere. Michela, ci deve fare un'altra domanda. Abbiamo parlato di serate, adesso questa domanda è ad hoc. Salve, volevo chiederle, quanto si sente accolta quando in occasione delle sagre paesane lei canta? Grazie. Penso che sia la mia oggi davvero, lo dico, la mia gioia più grande da cantante, ecco. Poi nella vita per fortuna ce ne sono tante che arricchiscono la mia esistenza, ma quando io arrivo e c'è la gente che, c'è magari il signore anziano che dice, ieri posso toccare i capelli. Oppure, aspetti, 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 ce la possiamo fare una fotografia. Oppure, insomma, i bambini che vengono sotto il palco e che mentre io canto con l'abbiale conoscono tutte le canzoni. Quelle sono le gioie più belle in assoluto e per le quali ringrazio tutti i santi giorni. È un amore che non finisce mai, perché oggi, oggi continuo, anche quando sei a casa, tutti i giorni con Facebook, con Instagram, con i messaggi che ricevi a casa. È un amore talmente grande che è quasi, ai quali proprio sei quasi impossibilitata a rispondere o in qualche modo quasi inadatta. Perché io vorrei veramente rispondere a tutti questi gesti giornalmente. Forse molte volte non è possibile. Rispondo, per esempio, ai messaggi di Messenger, rispondo al primo, chiudo, vrà, 90 notifiche di nuovo. E io dico, non ce la farò mai, perché... Però è davvero questa la cosa per la quale sono più grata del mio lavoro, proprio l'amore della gente. Faccio due ore di concerto, gli altri 40 minuti, prima di andarmene via. Tutte le sere sono per stringere la mano alle persone che sono venute a trovarmi. Che bello. Non è scontato. Non è scontato. Non può esserlo. Davvero. Maria Pia, abbiamo un'altra domanda. Eccola qua. Sta arrivando, sta arrivando. Buonasera, Maria Giovanna. Ecco, io vorrei chiederle quanto peso ha la tradizione musicale sarda nella sua produzione complessiva? Grazie. Qualche anno fa ho partecipato alle selezioni del Festival di Sanremo con una certezza, quella di avere una buona canzone. Ed in qualche modo non mi ero sbagliata, perché poi il brano è arrivato fino in semifinale, entrato tra i primi 12. Poi le cose non sono andate come credevo gli ultimi due giorni prima di partire. Ma credo che veramente in Sardegna si faccia musica di qualità e tutti quanti ce lo riconoscono. E quando io ho la possibilità di incontrare gli artisti che non sono sardi, loro sono veramente molto affascinati da questo nostro modo di cantare, da queste nostre tradizioni infinite, da questo patrimonio culturale che abbiamo. E sono loro che vogliono cantare in sardo. In questo disco ho cantato, Deos e Salve Maria, ho duetato con Fausto Leali. E quando noi abbiamo chiesto a Fausto di cantare, lui ha detto, eh sì, ma io voglio cantare l'Ave Maria in sardo. E lui la conosceva perfettamente prima che noi gli mandassimo la canzone da ascoltare a casa, perché è davvero un grande valore tutto questo patrimonio che possediamo. E allora come faccio a rinnegarlo? È impossibile, non si può rinnegare. Anzi, ogni volta ne sono ancora e sempre più orgogliosa. Non mi interessa se forse questo cantare in sardo non mi porterà su palcoscenici importanti, ma certo è che io oggi qua posso dire di avere, di essere in qualche modo una bandiera. E quella è la cosa più bella. Anche perché sono sicuro, sono certo che noi sardi conosciamo ancora un po' di più la Sardegna attraverso artisti che come te portano in alto questa bandiera sarda, appunto. Come oggi la cosa che mi interessa più di tutti, che la gente si possa in qualche modo riconoscere in quella sardità ed è anche una grande responsabilità questa, perché comunque abbiamo il dovere di rispettarlo questo patrimonio. Se per esempio un altro artista che non canta in sardo sbaglia una parola di non poto reposare, non se ne accorge nessuno, ma se la sbaglio io sì. Io non la devo sbagliare ed è giusto così. Certo. Abbiamo un'altra domanda, abbiamo anzi le ultime due, la penultima, ce la leggerà Niccolò. Eccolo, l'abbiamo già visto. Sono sempre io. Ben tornato. Grazie. Allora, la prossima domanda è a quale brano si sente più legata e perché? Beh, è un po' difficile perché poi le canzoni, io non sono un'autrice di brani, quindi aspetto che qualcuno mi regali sempre una bella canzone da cantare nella quale io mi possa riconoscere. Un giorno ho chiesto a Gino Marielli, dei Tazienda, con il quale lavoro mai da tanti anni, ero giovane, insomma, allora gli chiesi di scrivere una canzone per me, ma non una bella canzone di quelle che era racchiusa o conservata in un cassetto, perché ce ne sono davvero tante. No, io volevo una canzone che parlasse di me. E lui ha scritto per me Mediterranea, che è la canzone che in assoluto mi ha portato più fortuna, che mi ha dato più soddisfazioni. E mi è piaciuto questo, c'è scritto nel testo, il suo nome mio è Maria Deo Ganto, antiche parole e melodie. Questo era un quadro bellissimo, dove io ho detto, ecco, questa sì, questa sono io, questa è la canzone che avrei voluto cantare. E la cosa più bella è che la gente dice, sì, ok, sei tu, ma io dentro questa canzone vedo la Sardegna, e allora è ancora più bella. Abbiamo l'ultima domanda di Sofia, eccola qua. Buonasera, volevo chiederti, se non fossi andata in porto la tua carriera da cantante, avresti avuto un piano B? Se sì, quale? Ecco, il piano B è praticamente connivente continuamente con il piano A, ve l'ho già detto, io sono un'insegnante di scuola primaria e sono un'insegnante di religione, un'insegnante di religione un po' atipica, è veramente, però è proprio bello il mestiere, certamente che avrei fatto se non avessi avuto la possibilità di farlo, o comunque in generale se non avessi fatto la cantante, sicuramente sarebbe stata la maestra. E quindi io ho una doppia fortuna, quella di fare due lavori che mi piacciono e che vanno d'accordo. Io penso ai bambini piccolini, anche quelli dell'asilo con i quali ho lavorato in precedenza, magari mi vedevano in televisione, oppure mi vedevano nei telefonini, così, vieni che ti faccio vedere il maestra Maria Giovanna che canta. Allora, un giorno, due giorni, tre giorni, un giorno un bambino piccolino, ma proprio piccolo piccolo, avrà avuto tre anni, forse non ce li aveva neanche, un bambino di Romana mi ha detto, un giorno, io sono data a lezione, lui ha detto, maestra cosa facciamo oggi? Ah, oggi la maestra vi racconta una storia di Gesù, e vabbè, un giorno dopo, ah no no, che dobbiamo fare un disegno, un disegno di Gesù, tre giorni, quattro giorni, alla fine ha detto, e canta duruduru, ha detto, come dire, ma questa canta dappertutto e qui non canta, quindi alla fine, quindi vedi, sono due cose che vanno particolarmente d'accordo e sono felice di questo, anche oggi quando arrivo tutte le mattine, ma in televisione ti ho visto, davvero, è davvero, ti ho visto attaccata in quel muro vicino a Bossa, e così è, è la cosa più bella. La bontà e la purezza dei bambini. Allora, siamo arrivati un po' alla fine di questo racconto, ti chiedo due cose, prima, no, dopo un regalo ti chiederò, anzi tre, prima un piccolo consiglio che tu vuoi dare ai giovani che vogliono fare magari cantanti o comunque vivere d'arte, un consiglio spassionato. Sì, sono sicura, nel mio caso è stato, come dicevo, circondarsi di persone serie che vogliono veramente il tuo bene. Oggi, come oggi, sono sempre più convinta che ci siano tante persone valide che comunque hanno le competenze. Ecco, quello che conta sono le competenze, quello che non ho io, che io non so fare, certamente c'è un'altra persona che lo sa fare meglio di me. Io non vado a vendermi nei comitati, nei comuni, nelle feste, perché c'è qualcuno che lo sa fare meglio di me. Allora, affidarsi alle competenze degli altri, questa è la cosa più bella. Poi, certo, devi avere anche la fortuna di incontrarle queste persone. Nel mio caso è stato bello poter riconoscere il valore del lavoro degli altri, che nel mio lavoro è stato fondamentale. Grazie, grazie per questo consiglio. Infine, ti chiedo tre regali, tre parole, tre valori che sono stati per te importanti nella tua vita, che ti hanno guidato e che vuoi regalare a noi, ai giovani studenti e a noi dell'equip. Sicuramente la prima parola che mi viene in mente è famiglia. Io sono dipendente dalle persone che mi amano. L'ho detto, sono ancora figlia, zittella. a casa di mamma, dove tutto è facile, dove tutto è già fatto. Non andate bene da casa di mamma, mi? No, no, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. E quindi la mia famiglia è davvero una costante troppo importante per me. E poi, certamente, il lavoro, perché è quello che mi riempie le giornate di tante gioie. E posso dire, certamente anche quell'amore, però in senso davvero ampio, come quello che posso assaporare, che non è solo l'amore responsabile, l'amore tra un uomo e una donna, che nel mio caso, per esempio, è difficile da coltivare. Ecco, devo dire la verità. Io sono difficile da sopportare per tutta una serie di motivi, ma comunque vivo e mi nutro di tanto amore. L'ho detto spesso, in tante occasioni, in meritato. Grazie, grazie, grazie davvero. Facciamo un applauso. Alberto, ti porto con me nelle serate. Facciamo un applauso ad Alberto. Grazie. Grazie. Gentilissima, inaspettato. Grazie, grazie davvero. Mi emozionano sempre questi momenti. Adesso ti voglio chiedere un altro regalo. Ti sto chiedendo solo regali oggi, altre domande. Ma non è che sarebbe possibile, prima di salutarci un po' adesso in chiusura, due note, un piccolo pezzo cantato che ci vuoi regalare qua? Io lo canto con molto piacere se voi avete il piacere di ascoltare. Non serve niente, soltanto mezzo minuto di silenzio. Lo facciamo così senza musica, come si canta agli spuntini. E però poi il regalo ve lo chiedo io dopo. Possiamo cantare insieme? Io so che poi la conoscete questa canzone. Cantate con me? Sì. Va bene, ce l'ho fatta. Vediamo un po', mi alzo, posso alzarmi? Certo. Vai. Questa canzone la canto da sempre, da quando ero bambina, la cantava mio nonno. Ed è davvero un modo per dire grazie alla Sardegna. Sardegna mia, bella e luminosa. bella e luminosa. Sardegna mia, bella e luminosa. Sardegna mia, musica soave. bella essa armonia, un'uganto d'amore, protesa e sardinia mia, sardinia mia, bella e misteriosa, se mamma e se si sposa, desa zente tua, desa zente, 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 desa z Proviamo insieme? Vai, fatemi sentire. Non pot... Aspetta, è più bassa, più bassa. Non potto reposare, amore. Pensando a chi è sto, Don Zimo, non vistes indiscutati. Venga e oro, ne in dispiagere, o pensamentu. Siamo a chi è solutato. Venga e oro, ne in dispiagere, o pensamentu. Venga e oro, ne in dispiagere, o pensamentu. Solo un bravo, cada volta d'amo. D'amo, d'amo. Dobbiamo portare anche l'oro nelle piazze. Hai visto? Tutti scritturattimi. E guai a chi manca, eh? Grazie, grazie davvero anche di questo momento. Wow, è stato molto emozionante. Anche senza la musica, la voce fa un effetto incredibile. Ma non avevamo dubbi. Allora, quindi, siamo arrivati un po' in chiusura di questa puntata. Ti ringrazio ancora, è stato un immenso piacere e un onore. Grazie a voi. Poter fare questa chiacchierata con te e poter ascoltare la tua storia, che può essere anche un esempio per i nostri ragazzi. Grazie a voi, le ragazze e i ragazzi del liceo delle scienze umane e Marconi Lussu. Fatevi un super applauso. Tra l'altro, è la mia scuola, dove ho studiato anch'io. Ah, ecco, ecco. Adesso capisco la tua emozione. Hai visto? Vedo brillare i tuoi occhi, eh? Sempre, sempre, sempre. Grazie anche naturalmente alla dirigente, ai professori e alle professoresse. Grazie al pubblico che ci ha seguito anche oggi da casa, alla nostra regia e alla nostra equipe. Andiamo all'appuntamento per la prossima puntata, che sarà l'ultima di questa seconda stagione di Dieci Storie. Eccezionalmente andrà in onda dopo domani. Siamo sotto Natale, quindi non possiamo andare dopo il 25, quindi andrà in onda venerdì 23 dicembre. Alle ore 18 avremo ospite il direttore di coro, Tobia Tuveri. La puntata andrà online sul canale YouTube Diocesi di Alesterralba e sulla pagina Facebook Caritas Alesterralba. Vi auguriamo ancora una buona serata e alla prossima puntata. Grazie ancora, medediamo. Grazie a te Alberto, grazie a voi.